Anna e Scamilla, dopo due vittorie arriva una sconfitta per la UIVA. Il tuo commento a questa partita? Secondo me loro hanno giocato una partita molto ordinate, invece noi, magari quello che avevamo fatto nelle due partite che abbiamo giocato prima, in questa partita non è uscito tutto l'ordine che volevano. Secondo me loro hanno fatto una partita molto meglio da noi, principalmente secondo me in ordine. Anche noi volevamo battere abbastanza forte perché loro quando hanno la palestra catara magari hanno un po' più dei problemi, però non è uscito questo obiettivo che avevamo con la battuta e quindi secondo me questo è anche il fatto che magari loro hanno vinto il secondo set. C'è un po' di rammarico nel finale del primo set e del secondo dove eravate punto a punto, se poteva fare qualcosa di più? Sì, sì, come ti ho detto, principalmente secondo me abbiamo sbagliato tante partite in momenti che magari non erano per sbagliare e quindi abbiamo lasciato un po' di punti là e secondo me erano abbastanza importanti. Anche magari un po' di ordine in muro difesa, soprattutto con l'opposta da loro, eravamo un po' fuori di tempo in muro e quindi abbiamo fatto un po' di fatica. Senti, domenica si va a Scandicci, una gara sicuramente difficile. Caro Scandicci l'avete già incontrata a inizio dicembre e avete dimostrato di poterci giocare punto a punto. Che partita ti aspetti? Secondo me sarà una partita bella tosta per noi, però sono molto sicura che noi siamo pronti per giocare questa partita e se giochiamo il gioco che noi giochiamo da solito, secondo me vinceremo o almeno, secondo me, siamo abbastanza pronti per giocare questo. Quindi ho fiducia nella squadra e andiamo con tutto. Per noi è importante anche vincere questa partita, anche se è bella difficile, però andiamo avanti.